Una termocamera in dotazione al distaccamento dei vigili del fuoco di Montemurlo, strumento che permetterà di muoversi in sicurezza anche in ambiti ad alta densità di fumo, di controllare la temperatura negli edifici e nelle cisterne e di valutare la stabilità delle case durante gli incendi. A donarla l'amministrazione comunale, che così ha voluto ringraziare gli operatori del 115 per il lavoro svolto negli ultimi cinque anni. La nuova sede, infatti, è stata inaugurata nel 2014. Questa è una termocamera che andremo a donare tramite la protezione civile ai vigili del fuoco che dovrà servire per la sicurezza delle persone e anche degli operatori, perché è una telecamera importante che serve anche in caso di incendi di vedere chi ci sta dall'altra parte. Uno strumento all'avanguardia, 5.000 euro di valore, di facile utilizzo, che agevolerà il lavoro dei vigili del fuoco. La termocamera è molto utile in quanto ci consente alle nostre squadre di entrare in ambienti con presenza di fumo e quindi consente al personale di lavorare con maggiore sicurezza e nello stesso tempo ci consente di vedere attraverso il fumo e quindi ci consente sicuramente di salvare delle vite umane e quindi è sicuramente particolarmente utile per le nostre operazioni di soccorso tecnico urgente. È sufficiente dare delle informazioni al personale sull'utilizzo.